Sette arresti in flagranza in soli dieci giorni, la maggior parte per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e l'effetto dell'aumento dei controlli e del numero di pattuglie impiegate a copertura del territorio di Cerignola e dei cinque reali siti deciso dalla locale compagnia dei carabinieri. A Stornarella un uomo di nazionalità straniera ha aggredito la moglie per poi scagliarsi contro i militari intervenuti per riportarlo alla calma. Un carabiniere è stato colpito con un bastone finendo per terra mentre un suo collega ha ricevuto un pugno in pieno volto dopo aver utilizzato contro l'aggressore dello spray urticante. Finalmente riso inoffensivo l'uomo è stato condotto nel carcere di Foggia. A Cerignola una pattuglia è intervenuta in via Ponente dove un uomo stava brandendo un'ascia ed intimoriva i passanti impedendo loro l'ingresso nei negozi presenti nelle vicinanze. Disarmato dai militari ha cercato la fuga a bordo di uno scooter ma è stato immediatamente bloccato per poi essere trasferito nel carcere di Foggia. È finito invece ai domiciliari il sorvegliato speciale che alla guida della sua autovettura ha cercato di sfuggire ad un controllo dei carabinieri con manovre spericolate e pericolose raggiungendo anche velocità molto elevate durante l'inseguimento dei militari. Inutile il tentativo di abbandonare l'auto per fuggire a piedi tra le campagne. L'uomo è stato raggiunto e condotto in caserma. Dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale anche il 57enne denunciato ad Ascoli Satriano mentre a petto nudo spaventava gli avventuri di un bar brandendo un coltello, la stessa arma con cui l'uomo ha cercato di aggredire i carabinieri intervenuti sul posto opponendosi all'arresto. Solo l'arrivo di una seconda pattuglia e l'utilizzo dello spray urticante hanno consentito di bloccare il 57enne e di trasferirlo prima ai domiciliari e poi nel carcere Foggiano. Grazie 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 Grazie